Sui forum online periodicamente appare questa domanda. È legale stare in un gruppo WhatsApp che segnala posti di blocco? Secondo alcuni, partecipare a tali chat integrerebbe il reato di interruzione di pubblico servizio. La convinzione deriva dal fatto che, secondo le cronache di alcuni giornali, in diverse occasioni gli agenti avrebbero sporto denuncia contro i partecipanti dopo il sequestro dello smartphone di uno di questi, a seguito di un incidente stradale al fine di verificare se il conducente aveva le mani impegnate in qualche telefonata. Tuttavia, nonostante le denunce, nessuna condanna penale è stata mai emessa. Sapete perché? E cosa si rischia se si trova sul cellulare una di queste chat? Ve ne parlerò in questo video. Prima di iniziare, vi ricordo il mio ultimo libro per Mondadori, Fanculo il successo, una lettera scritta a mio figlio, quindi quanto di più sincero ci possa essere, in cui gli spiego come raggiungere l'equilibrio e il successo nella vita. E siccome, ripeto, l'ho scritto non per fare il gulo, il sapientone o per guadagnare, ma per aiutare davvero mio figlio a vivere più felice e in pace con se stesso, sono sicuro che troverete tantissimi spunti, come li hanno già trovati tutti quelli che su Amazon hanno lasciato delle bellissime recensioni su questo volume. Ma ora veniamo a noi e lanciamo la nostra sigla. Questa è la legge! Dicevo che, pur dinanzi a diverse denunce da parte delle forze dell'ordine nei confronti di chi era iscritto a gruppi WhatsApp per segnalare posti di blocco, denunce per il reato di interruzione di pubblico servizio, non c'è mai stata alcuna condanna penale. Come mai? Secondo il giudice per le indagini preliminari di Genova, non si verifica alcun intralcio o disturbo al servizio pubblico offerto dalla polizia, e ciò per due ragioni. La natura privata della chat di WhatsApp, che non è accessibile a chiunque e che quindi non impedisce alla polizia di svolgere il proprio servizio per tutti gli altri automobilisti non iscritti al gruppo. E poi per il numero limitato di automobilisti coinvolti nella chat rispetto al totale degli utenti della strada. Dunque, è legale stare in un gruppo WhatsApp che segnala posti di blocco? Secondo un'altra tesi, in ipotesi del genere, può essere contestata solo la violazione dell'articolo 45,9 bis del codice della strada, il quale prevede una semplice sanzione amministrativa da 825 a 3305 euro. Tuttavia, ben vedere, questa norma punisce solo coloro che segnalano, o fanno uso di dispositivi che segnalano, la presenza e la localizzazione delle postazioni di controllo elettronico della velocità, come tutor, autovelox o telelaser. E lo stesso dicasi per chi fa uso dei lampeggianti per avvisare le auto provenienti dal senso di marcia opposto. Questa norma non si può applicare in via analogica anche ai semplici controlli su strada della polizia, se è priva delle apparecchiature di controllo elettronico della velocità. Pertanto l'adesione alla chat che segnala il posto di blocco o la presenza di una pattuglia ai margini della strada non può essere sanzionata. Se però il gruppo è anche rivolto a indicare la presenza di autovelox, scatta la multa stradale. Naturalmente sarà la gente a verificare in quale delle due ipotesi si verte, leggendo il contenuto della chat e quindi le precedenti segnalazioni fatte dai partecipanti. Cosa diversa è invece la segnalazione che fanno alcuni navigatori satellitari, omologati in questo caso, vengono solo indicate le strade dove è potenzialmente possibile un controllo elettronico della velocità, non anche l'effettiva presenza della polizia. E ciò perché questi tratti vengono previamente comunicati proprio dalle stesse forze dell'ordine. In alcuni casi per la posizione degli autovelox, almeno in modalità automatica, è anche necessaria l'autorizzazione del prefetto. Quindi basta leggere queste ordinanze per sapere dove si trovano gli autovelox. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.